Musica Portal tutto tacce per il rilancio della fabbrica di laminati in alluminio la denuncia del consigliere regionale Ignazio Loci che sollecita la giunta da riavvia le autorizzazioni che consentirebbero il riavvio della produzione ferito alla testa dalla caduta di un cornicione a carbonio in piazza ciusa i pezzi di intonaco di un palazzo hanno colpito un uomo mentre si trovava con il nipotino seduto al bar sottostante se l'è cavato con qualche giorno di cure mediche e il collare ortopedico arrestato con un chilo di hashish un giovane di Sant'Antioco è stato sorpreso dai carabinieri con la massiccia dose di droga pronta per l'emissione nel mercato Cittadini attivi, l'iniziativa dell'Adi Consum Giancarlo Canceda in collaborazione con Canale 40 lancia un appello ai cittadini di Carbonia inviate le vostre foto o video per segnalare disagio e virtù della vostra zona la raccolta sarà consegnata all'amministrazione comunale Benvenuti nel telegiornale di Canale 40 l'industria è in apertura nel nostro Tg il progetto della Portal la società che ha rilevato la fabbrica Exila di Portovesme è fermo a causa delle lungaggini burocratiche e a causa di una giunta regionale poco interessata al progetto è il comento del consigliere regionale di Forza Italia Ignazio Locci esiste un investimento per rilanciare la fabbrica da parte dell'imprenditore iglesiente Antonio De Rio che da tempo attende autorizzazioni regionali per portare avanti il progetto se entro a breve tempo precisa Ignazio Locci la giunta non autorizzerà il funzionamento di tre aerogeneratori fondamentali per dare avvio all'attività produttiva gli operai in forza della fabbrica potrebbero perdere ogni tipo di ammortizzatore sociale e certo non possiamo accettare passivamente dice che un figlio del nostro territorio desideroso di investire in questa terra sia costretto a tirare il remi in barca soprattutto perché, aggiunge il consigliere abbiamo steso tappeti rossi a imprenditori esteri che faranno grandi affari in Sardegna vedi l'operazione San Raffaele di Olbia ma non mostriamo la stessa attenzione nei confronti degli imprenditori locali e passiamo alla cronaca ci spostiamo a Carbonia dove un uomo è rimasto ferito a seguito della caduta di un cornicione la vittima dell'incidente, Giancarlo Foglia si trovava seduto al bar Cagliari in piazza Ciusa quando da uno dei due balconi del piano superiore sono caduti alcuni pezzi di intonaco col pendolo alla testa il vecchio palazzo evidentemente non sottoposto a lavori di manutenzione da tempo fu costruito da pomata e ferro negli anni 50 Manolo Mureddu ha intervistato la vittima della caduta vediamo siamo in compagnia di Giancarlo Foglia ieri Giancarlo si è visto piombare un pezzo di cornicione sopra la testa cosa è successo? è seduto lì con mio nipotino e mio figlio e Fabrizio purtroppo all'involere è caduto questo pezzo di fiammento di sopra e mi ha preso in testa e mi hanno portato all'ospedale che danni ti ha creato? e i danni mi ha fatto una matoma in testa mi ha fatto una mica la vittima un trauma cranico? eh sì abbiamo fatto 7 ore di ospedale qualcuno risarcirà questo danno? penso io io gli auguro di sì perché se no lo do all'avvocato tu frequenti spesso questa zona non ti rimai accorto di questo pericolo? no che ero tutti i giorni io qua giorno e giorno ero qua tutti i giorni perché è stata una cosa all'improvviso così parlando con mio nipotino è successo sto danno qua è andata bene così questo è un palazzo privato? sì un matto un signor perro mi sembra un matto proseguiamo con la cronaca i carabinieri di Sant'Antio che ieri hanno tratto in arresto Mattia Sarais 26enne del luogo perché ritenuto responsabile del reato di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giovane infatti è stato sorpreso intorno alle 19.30 in possesso di un chilogrammo di hashish su disposizione del sostituto procuratore Cocco Sarais è stato accompagnato al carcere di Buoncammino di Cagliari tempo fa vi avevamo segnalato il caso di un'anziana signora di Cortoghiana Maria De Planu che ha gravi problemi di deambulazione ogni giorno si siede in una panchina nella via principale della frazione per concedersi un momento di svago i rami le erbacce spinose dei cespugli non curate cresciute a disvisura avevano coperto la panchina la signora aveva segnalato il problema affinché l'amministrazione intervenisse il comune ha provveduto a togliere le erbacce ma nell'area attorno alla panchina sono rimasti molti rifiuti come si può notare dalle immagini rifiuti che permangono da diverse settimane segno questo di una mancata pulizia quotidiana vi proponiamo adesso l'intervista realizzata questa mattina da Manolo Mureddu con Antonello Trogo presidente dell'associazione Talidomidici Onlus che ancora secondo quanto riportato da Trogo non è stata riconosciuta ufficialmente dalle istituzioni vediamo siamo in compagnia di Antonello Trogo responsabile dell'associazione Cavalieri della Tao cosa succede? allora sono diventato responsabile dell'associazione Cavalieri della Tao per tutta la Sardegna perché in tali domenici come me in altri fuori comunici dalla nascita devono avere loro indenizio quindi io aiuto sia disabili come me e fuoco medici come me quindi chiunque sia nato fuoco medico o disabile viene da noi a fare la testa 10 euro all'anno e avrà anche un avvocato gratis tutte le generazioni che un disabile deve avere perché io sto muovendomi interamente comune a ASI e tutto quanto poi le ASI devono chiamarmi a ogni riunione che fanno loro per poter rispettare anche noi tali domenici in Sardegna e in Italia fino ad oggi la sua associazione non è stata riconosciuta dal punto di vista legale o ufficialmente? no è ufficialmente legale però in Sardegna ancora nessuno lo sa che sono responsabile per l'associazione Cavaliere da Tau e dal nord al sud della Sardegna da Orestano Nuvolo dovremmo chiamare le ASI perché devono sapere che tali domenici esistono quindi le chiede insomma di essere riconosciuto ufficialmente come rappresentante di questa associazione e di poter partecipare agli incontri pubblici e ufficiali tutte le ASI della Sardegna convegni riunioni è sempre presente anche se non parlo però è sempre presente parliamo adesso di un'iniziativa lanciata dalla di Consum di Carbonia in collaborazione con la nostra emittente canale 40 l'iniziativa ha lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità dei cittadini nella vita di tutti i giorni ma nell'intervista al presidente dell'Adi Consum Giancarlo Cancedda vi spieghiamo esattamente di che cosa si tratta Giancarlo Cancedda presidente dell'Adi Consum lei in collaborazione con la nostra tv canale 40 intende lanciare un'iniziativa rivolta ai cittadini esattamente di che cosa si tratta un'iniziativa fatta con lo spirito di collaborazione e proposizione positiva verso l'amministrazione e verso tutti gli operatori che intendono operare in città e abbellire e proporre una città più vivibile e migliore di che si tratta allora invitiamo tutti i cittadini che vuole essere presenti di inviarci ad Adi Consum o a Canale 40 fotografie delle situazioni che ritengono loro necessarie per il miglioramento della città o per l'apprezzamento della città faccio degli esempi gli esempi negativi ma sempre propositivi se vediamo delle vie intassate sui marciapiedi da auto e non si può camminare fotografarle segnalarle giorno emotivo e via se troviamo delle buche pericolose fotografarle segnalarle se troviamo non so una piazza bella pulita segnalare e dare merito a chi questo l'ha fatto se riteniamo che in una piazza serva che ne so una fioriera segnalarla se riteniamo che ci sono strisce pedonali e siano piccolose segnalarle tutto ciò che il cittadino vede pensa di poter utilizzare per migliorare la città va segnalato con delle fotografie anche anonime l'importante è che ci sia il luogo la data è la proposizione per cui questa è stata fatta i canali 40 e i consul raccoglieranno tutto il materiale entro il mese di ottobre faranno una raccolta metteranno le loro considerazioni varie e il tutto poi verrà presentato all'amministrazione in modo che conoscono direttamente le opinioni le idee dei cittadini e nel limite del possibile trovino le soluzioni le foto che documentano problemi lanciano segnalazioni o mostrano disservizi ma anche aspetti positivi della città possono essere spedite all'adconsum all'indirizzo adconsum carboniacchiocciolatiscali.it o spedite tramite posta urbana in via Mazzini 41 oppure potete spedire il materiale anche a canale 40 tramite posta elettronica tv canale 40 chiocciolalibero.it o inviate tramite messaggio nella pagina facebook canale 40 e adesso andiamo a Carloforte Cala Vinagra uno dei luoghi più incantevoli dell'isola di San Pietro ha da sempre rappresentato un pericolo per l'inaccessibilità dei mezzi di soccorso la capitaneria di Porto è riuscita ad ottenere che la cala divenisse accessibile per i propri mezzi nonché per i mezzi del 118 e della croce azzurra di Carloforte tempo fa si è verificato un caso in cui è stato difficile muoversi tra le rocce e si è dovuto attendere l'elicottero dei vigili del fuoco per soccorrere un turista ieri il comandante del porto Ugo Piras ha consegnato le chiavi del cancello di ingresso di Cala Vinagra al direttivo della croce azzura ed in questo modo si è aggiudicato un importante contributo per salvaguardare la vita umana il 6 e il 7 settembre ad Iglesia si svolgerà il sesto torneo nazionale della balestra da banco organizzato dalla compagnia Balestrieri Fontane in collaborazione con il comune ospite d'eccezione sarà l'associazione Balestrieri San Benedetto da Norcia la giornata di sabato 6 settembre sarà dedicata ad accogliere gli ospiti che incontreranno i rappresentanti dell'amministrazione comunale la giornata clou è prevista domenica di sera alle 18.30 si svolgerà un corteo che partirà da piazza municipio per arrivare poi al chiostro di San Francesco dove alle 19 sarà inaugurata la manifestazione con l'esibizione di un falcone che simulerà dei momenti di caccia seguiranno poi altre esibizioni dei combattenti medievali alle 22 è previsto l'inizio del campionato vero e proprio il comune di Carboni ha disposto il pagamento relativo alla fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014 si invitano i destinatari a consultare l'elenco pubblicato sul sito internet del comune nella pagina servizi comunali servizi pubblica istruzione in quanto alcuni importi saranno erogati presso la tesoreria comunale ed altri presso l'ufficio economato in via Mazzini 68 e con questo è tutto vi ricordo che potete seguire il nostro notiziario anche nel sito internet www.canale40tv.it e nella pagina facebook vi ringrazio per averci seguita adesso vi lascio le previsioni del tempo e vi rimando alle prossime edizioni la giornata di mercoledì nel sul CIS sarà caratterizzata da bel tempo e caldo i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord ovest con intensità di 14 km orari possibili raffiche fino a 21 km orari temperature minime comprese tra i 14 e 20 gradi e massime comprese tra i 26 e 31 gradi e tra i 15 gradi attra Aca attralesano